Dalla movimentazione dei container alle crociere il porto della Spezia è in continua evoluzione. All'auditorium Giorgio Bucchioni nel corso di un importante convegno si sono tracciate le prospettive di un comparto sempre più rilevante dal punto di vista economico. Il convegno di quest'anno è la seconda edizione sotto il segno del porto, vuol dire intanto l'importanza che i porti hanno per questo territorio, quindi valorizzarne il peso dal punto di vista economico, sociale, dell'occupazione e quant'altro, ma quest'anno vogliamo farlo ragionando sul contesto in cui siamo, un contesto molto difficile sotto il profilo internazionale che genera tensioni e che può produrre anche riflessi negativi sia sui traffici che sulle nostre economie che sono economie basate sull'export e quindi l'export predilige ovviamente una situazione internazionale tranquilla piuttosto che una situazione così tesa come quella che viviamo, per cui diciamo che il primo messaggio è che vogliamo stare all'interno di questa tensione cogliendo anche le opportunità che invece ci sono, come sempre in tutte le situazioni critiche abbiamo grossi problemi ma abbiamo grosse anche opportunità e quindi da questo punto di vista noi ci candidiamo per coglierle. Dall'altro c'è un altro elemento che caratterizza questa fase storica, dopo tanti anni di stallo le infrastrutture portuali e le infrastrutture di trasporto in questo arco tirrenico, nord tirrenico dico da Livorno a Genova compreso a Spezia avranno tutte nello stesso momento sostanzialmente un processo di crescita che anche qui comporta prospettive positive ma immediati problemi e noi proponiamo al sistema in generale, al sistema nazionale di affrontare queste problematiche in modo coordinato. Dalla protezione delle rotte commerciali a tutte le operazioni che si svolgono in porto un ruolo essenziale lo svolgono gli uomini della Marina Militare e della Capitaneria di Porto. Le Capitanerie di Porto svolgono un ruolo importante in tutti i porti nazionali assicurando in primis, il primo anello della catena logistica, l'accessibilità nautica ai porti l'accessibilità nautica che è strettamente legata alla parte infrastrutturale che in questo momento in particolare nel porto di Genova ma anche qui a Spezia è fortemente all'attenzione perché si sta costruendo la nuova diga. Porto e sostenibilità ambientale sono un binomio possibile? La sfida del futuro ma anche quella del presente è ridurre al minimo le emissioni inquinanti utilizzando fonti di energia pulita.